Ribera paga l'incapacità politica degli amministratori che si sono avvicendati nell'ultimo ventennio e particolarmente negativi sono stati questi sei anni di amministrazione pace, incapace di garantire anche l'ordinaria amministrazione. Superata la crisi all'interno della maggioranza, ad attaccare pesantemente il sindaco sono oggi gli attivisti del meetup Ribera 5 Stelle. Si è parlato di crisi politica, hanno scritto in un comunicato, ma questa amministrazione non sa governare. Tutto è finito con una girandola di poltrone e con un rimpasto della giunta quando i problemi della città sono ben altri. Per i 5 Stelle manca un progetto socio-economico e culturale che è frutto della conoscenza e della capacità di avviare una trasformazione del territorio. Ribera è la città delle arance, evidenziano, eppure in Viale Regione Siciliana, l'unico dove sono presenti alberi di arancio, non è stata effettuata nessuna potatura. E tra le critiche finisce anche la gestione del patrimonio del verde urbano, con la villa comunale da tempo chiuso al pubblico, lo stato di degrado in cui versano le strutture sportive, le condizioni dei marciapiedi e delle strade, il costo elevato della tassa rifiuti. Insomma di tutto di più per gli attivisti del meetup Ribera 5 Stelle, per i quali il sindaco farebbe bene a dimettersi.